ciao ragazzi buonasera allora sono qua a presentarvi una scoperta che abbiamo fatto un tessuto super stretch interamente termico da fare gli abiti o le giacche sia per le cerimonie che per tutte le serate io sto indossando un abito doppio petto che è interamente elasticizzato non si maltratta potete fare qualsiasi tipo di movimento questa giacca è interamente decostruita ve la faccio vedere all'interno sia il pantalone che la giacca sono interamente decostruiti come potete vedere quindi cuciti super elasticizzati potete andare anche a fare sport in palestra facciamo due modelli uno doppio petto come nel dorso io e uno monopetto in vari colori vi faccio vedere un'altra cosa la giacca la potete trattare come volete addirittura vi viene fornita in questo sacchetto dove troverete dove volete mettere la vostra giacca quindi anche se andate sullo scooter non sono problemi aprete la giacca la tostate ed è sempre non maltrattata l'azienda si chiama distretto 12 è un'azienda che fa queste queste questo tessuto come potete vedere leggere qua interamente termico è tutta decostruita con la spalla della giacca perfetta il pantalone anche completamente perfetto vi seguono i movimenti e lo potete avere con i bottoni o con la culisse in vita in modo tale che evitate di mettere la cinta per stare più freschi in estate vi ho presentato questa linea perché l'ho scoperto questo tessuto e ho visto chi lo realizzava lo realizzava questa azienda di Firenze e noi subito abbiamo portato l'abbiamo portato qui in boutique per tutti voi vi aspettiamo per le cerimonie oppure vi aspettiamo per indossare una giacca una sera con una nuova o vecchia fiamma vi ringrazio alla prossima è sempre solo primo storio vi aspetto a tutti quanti